Il Cagliari è più che mai alla deriva. Alla critica situazione societaria si è aggiunta la terza sconfitta interna consecutiva oggi ad opera del Catanzaro che dopo aver fallito un rigore ha ottenuto con Cascione il gol della vittoria. Il Cagliari ha fallito una grossa chance al 28esimo della ripresa ha usufruito di un rigore per farlo su Bernardini in area ma è una brutta stagione per il Rosso Blu. Casale ha sprecato in questo modo.